30 anni di reclusione, questa la richiesta del PM della procura di Pescara Anna Rita Mantini nei confronti di Vincenzo Gagliardi, il 57enne dipendente del centro meccanografico delle poste di Pescara, unico imputato nel processo secondo il rito abbreviato per l'omicidio di Giancarlo Pavone, l'ingegnere di 42 anni di Montesilvano, morto nel 2014 dopo una lunga agonia in seguito al colpo di fucile che lo ha raggiunto alla testa la sera del 30 ottobre del 2013 mentre si trovava sotto casa per buttare l'immondizia. Nel corso della sua requisitoria il PM Mantini ha fatto pesare gli indizi raccolti durante le indagini, in particolare le risultanze delle analisi della scientifica sugli indumenti sequestrati a Gagliardi che hanno evidenziato tracce di polvere da sparo su un giubbotto, su un pantalone e sulle scarpe consegnati ai carabinieri dalla moglie di Gagliardi e che l'uomo conservava all'interno della sua automobile in una busta di plastica. Nel corso delle indagini è emerso anche che l'imputato aveva una relazione sentimentale con la moglie dell'ingegnere Pavone, questo secondo gli inquirenti sarebbe il movente dell'omicidio. Questa mattina Vincenzo Gagliardi ha seguito tutte le fasi del processo, difeso dagli avvocati Renzo Colantonio e Barbara Santoleri, attendendo la decisione del GUP del Tribunale di Pescara Maria Carla Sacco, dopo aver trascorso più di un anno nel carcere di San Donato a Pescara a seguito dell'arresto effettuato dai carabinieri adriatici il 28 maggio 2014. Nell'aula 8 del Tribunale di Pescara c'è anche la moglie di Carlo Pavone, Raffaella Deste, costituitasi parte civile anche per i suoi due figli, così come i fratelli Adele e Rocco e la mamma dell'ingegnere Concettina Toro, che attraverso i propri legali hanno chiesto 600 mila euro di risarcimento danni. Quindi sono cifre di denaro che poi si aggirano complessivamente sui 500-600 mila euro, ma poi lascia il tempo che trovano, interessa che sia quello che è importante che si accerti la responsabilità di chi è stato l'autore dell'omicidio di Carlo Pavone. Poi non sta a me parlare di pena, non fa parte degli argomenti della mia parte processuale. Mi sembra che sia comunque una richiesta assolutamente congrua.